Ciao, sono Dino Rubino, vi aspetto il 9 luglio a Brescia dove presenterò il mio ultimo lavoro discografico che si chiama Where is the Happiness, assieme a Emanuele Cisi al sassofono, Paulino dalla porta al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria per la rassegna Jazz on the Road. Ciao, a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!